benvenuti ad app per prof un'app in cinque minuti appena ovvero una vetrina non un tutorial che introduce sinteticamente strumenti tic per i docenti 3.0 ricordati di abilitare la recezione delle notifiche via mail delle nuove app per prof dopo esserti iscritto al canale fai click sull'icona della campana nella finestra di dialogo che vedrai seleziona ricevere tutte le notifiche buona visione ben trovati a tutti survio un applicativo freemium web based che permette di creare somministrare analizzare i dati di un sondaggio online e condividerne i risultati nato per esigenze commerciali survio si presta un utilizzo didattico di supporto all'attività del docente uno degli aspetti più interessanti è che l'app mette a disposizione un gran numero di template ovvero di modelli di sondaggi già pronti che possono essere adattati alle esigenze dell'utente e nel nostro caso dei docenti realizzare un sondaggio con survio è davvero molto semplice sebbene alcune delle funzioni più interessanti come quella di esportare e condividere i risultati richiedono una sottoscrizione premium gli aspetti più accattivanti di survio sono in definitiva la facilità d'uso la versatilità e l'estrema velocità di creazione e raccolta dati online procediamo passo dopo passo iniziando dalla registrazione di un account nella home page del sito inseriamo i nostri dati e una password di almeno otto lettere ci verrà inviata quindi una mail automatica per confermare il nostro account da questo momento indirizzo mail e password saranno convalidate e li useremo per entrare in survio accediamo l'applicativo l'interfaccia visualizza sulla sinistra i sondaggi che abbiamo già creato mentre sulla destra un repilogo del numero massimo delle risposte che abbiamo a disposizione 100 e il numero massimo dei sondaggi che è 5 terminati i quali dovremo passare un account premium oppure cancellare un sondaggio che abbiamo già realizzato procediamo ora creando un sondaggio ci vengono offerte tre opzioni utilizzare un modello già predefinito creare un nostro sondaggio o copiarne uno per andare a modificarlo scegliamo un modello abbiamo una lista di categorie tra cui educazione vediamo un questionario per i corsi di aggiornamento degli studenti da questo momento possiamo modificare il nostro sondaggio andando ad esempio a scegliere un design cioè uno sfondo possiamo prendere ad esempio questo o sceglierne uno che ci piace una volta selezionato possiamo andare a modificare la logica delle domande se abbiamo un account premium oppure le impostazioni tra cui abbiamo la possibilità di visualizzare i numeri delle domande oppure la barra di progresso o altre altri comandi torniamo su modifica sondaggio e vediamo che possiamo cambiare il titolo caricare un logo le opzioni in arancione sono le opzioni dell'account premium inserire una descrizione sotto abbiamo la possibilità di aggiungere attraverso l'icona con il più il numero desiderato di domande vediamone alcune le domande quindi sono a scelta singola scelta multipla addirittura una valutazione attraverso stelle griglie o naturalmente testi liberi una volta che abbiamo selezionato tutti i nostri quesiti ecco che possiamo procedere con la raccolta delle risposte per raccogliere le risposte abbiamo a disposizione un link che dobbiamo comunicare ai nostri utenti oppure la possibilità di pubblicare sui social nel caso avessimo un account premium possiamo inviare direttamente agli intervistati tramite mail il sondaggio possiamo infine procedere con l'embed del codice oppure il link direttamente in un sito una volta che abbiamo ultimato il procedimento che ci porterà a condividere il nostro sondaggio possiamo andare a analizzare i risultati naturalmente abbiamo bisogno di risposte per poter visionare i grafici vediamo un sondaggio che abbiamo già realizzato per poter vedere i grafici relativi questo sondaggio sulle attrezzature della scuola ha già raccolto 10 risposte andiamo a vedere come è possibile analizzare i risultati possiamo creare dei filtri oppure esportare i nostri dati nel caso in cui avessimo sottoscritto a un account premium interessante però è la possibilità di visualizzare sotto forma di grafici tutte le risposte che ci sono state fornite i grafici sono istogrammi oppure aerogrammi ci permettono di avere subito rapidamente una serie di indicazioni possiamo anche aggiungere dei commenti tra le opzioni possiamo condividere risultati attraverso un sito web oppure visionare le singole risposte e i periodi intercorsi tra una risposta e l'altra nella sua semplicità survio è un discreto strumento per procedere a sondaggi veloci tra gli alunni un utilizzo più creativo è legato all'analisi statistica dei dati potremmo chiedere agli alunni di creare e somministrare dei sondaggi esemplificativi per poi lavorare sui grafici si tratta davvero di un'app in 5 minuti che però può essere d'aiuto al nostro lavoro immaginate di chiedere durante un consiglio di classe oppure a un collegio di esprimere il proprio parere semplicemente collegandosi al link di un survio la tecnologia rende le cose più semplici buon lavoro e a presto